Nell'esplorare la vasta distesa dello spazio, gli scienziati hanno fatto scoperte incredibili che li hanno lasciati con più domande che risposte. Da una superterra rovente a un pianeta a forma di palla da football, gli esopianeti scoperti nel 2022 sono davvero fuori dal mondo. Prima scoperta, nuovi tipi di esopianeti. Le nane rosse costituiscono oltre il 70% di tutte le stelle nello spazio. Nel settembre 2022, gli scienziati hanno deciso di osservare più da vicino i mondi che orbitano attorno a queste stelle. Quello che hanno trovato è stato stupefacente, un nuovo tipo di esopianeti composti per metà da roccia e per metà da acqua, liquida o ghiacciata. I ricercatori hanno suggerito che questi pianeti potrebbero essersi formati da materiale ghiacciato e nati lontano dalle loro stelle, oltre la linea di neve, dove le temperature superficiali sono gelide. In seguito, però, si sarebbero avvicinati, spostandosi dove gli astronomi li hanno individuati. Questa scoperta potrebbe avere enormi implicazioni nella ricerca di vita nel cosmo. Sebbene questi pianeti siano ricchi di acqua, potrebbero non essere coperti da oceani. Chissà, forse uno di loro sarà la prossima Terra. Seconda scoperta, un pianeta grande quanto Giove, supermassiccio, nascosto nella nostra galassia. Ebbene, lo abbiamo appena trovato a orbitare attorno a una stella distante appena 379 anni luce. L'abbiamo chiamato TOI 2180b e ha fatto molto parlare di sé. Perché? Tanto per cominciare, impiega ben 261 giorni per orbitare intorno alla sua stella, un tempo molto più lungo di quello dei giganti gassosi più lontani incontrati finora. Inoltre, la temperatura su questo pianeta è sorprendentemente mite, con una media di 75 gradi Celsius. Per fare un confronto, la temperatura su Giove e Saturno è intorno ai meno 170 gradi. È come un ponte tra gli esopianeti giganti già scoperti e Giove. Ma la domanda è, come ha fatto questo pianeta a diventare così? Gli scienziati stanno ancora cercando di capirlo. Speriamo di avere presto delle risposte. Terza scoperta, il pianeta Hulk. Su questo pianeta, la superficie è ricoperta di magma fuso e l'anno dura solo mezza giornata. Benvenuti su TOI 1075b, un esopianeta soprannominato dagli scienziati pianeta Hulk. Situata a 200 anni luce di distanza, questa superterra è una delle più massicce mai scoperte. La vicinanza alla sua stella fa sì che la sua superficie raggiunga temperature roventi di 1050 gradi Celsius. Fa così caldo che qualsiasi forma di acqua evaporerebbe all'istante e l'aria si riempirebbe di roccia vaporizzata. Ma non è solo il calore a essere impressionante, lo sono anche le sue dimensioni. TOI 1075b ha una massa quasi 10 volte superiore a quella terrestre, il che la rende una delle superterre più grandi. Ma il mistero si infittisce. L'orbita del pianeta dura appena 14,5 ore, uno dei periodi orbitali più brevi mai registrati per un pianeta di tali dimensioni. Quarta scoperta. Tre pianeti condannati. Gli astronomi hanno fatto la scoperta sconvolgente di tre pianeti che girano pericolosamente intorno a delle stelle che si stanno lentamente spegnendo. Solo un decennio fa non avremmo mai immaginato che pianeti del genere potessero esistere. Questi giganti gassosi, di dimensioni simili a quelle di Giove, orbitano troppo vicini alle loro stelle in lento dissolvimento. In pratica camminano sul filo del rasoio. Prendiamo ad esempio TOI 2337b. La sua orbita probabilmente lo farà precipitare dritto tra le braccia infuocate della sua stella ospite in meno di un milione di anni. Negli ultimi giorni di vita, queste stelle attirano i pianeti vicini come un buco nero, alterando le loro orbite e causando collisioni catastrofiche. Inoltre, man mano che questi pianeti si avvicinano alle loro stelle, le loro atmosfere si riscaldano e si gonfiano, generando differenze di densità sorprendenti. Nonostante le previsioni negative, lo studio di questi pianeti potrebbe fornirci preziose informazioni sull'evoluzione del sistema solare. Quinta scoperta. Pianeti con bario nell'atmosfera. Si tratta di due pianeti caldissimi, ciascuno con un'atmosfera composta dall'elemento più pesante mai trovato su un esopianeta, il bario. Questi pianeti, noti come WASP-76b e WASP-121b, sono giganti gassosi chiamati Giove Caldi e orbitano incredibilmente vicino alle loro stelle. Sono in pratica delle gigantesche palle di fuoco, con un lato rivolto verso la stella, e bruciano a temperature tali da vaporizzare il ferro e altri metalli. Quando quel vapore viene soffiato verso il lato freddo del pianeta, si trasforma in liquido e cade sotto forma di pioggia di ferro. La cosa più sorprendente è che il bario è un metallo pesante, circa 2,5 volte più pesante del ferro. Eppure gli scienziati sono riusciti a rilevarlo negli strati superiori dell'atmosfera di questi pianeti. È davvero un mistero e un rompicapo che stiamo ancora cercando di risolvere. Immagina di atterrare su un pianeta come questo e di vedere questa pioggia di ferro e il bario nel cielo. Sarebbe terribilmente spaventoso. Sesta scoperta. Un pianeta a forma di palla da football. Preparati a rimanere a bocca aperta. Abbiamo appena scoperto il pianeta a forma di pallone per eccellenza, ed è diverso da qualsiasi cosa mai vista prima. Ecco WASP-103b, l'esopianeta ultracaldo che si trova a più di mille anni luce dalla Terra. Questo gigante gassoso è così vicino alla sua stella da essere allungato dalle intense forze gravitazionali. Ma non solo ha una forma particolare. Si tratta anche di una preziosa scoperta scientifica. Studiando i movimenti del pianeta, siamo stati in grado di misurare la sua deformazione per la prima volta in assoluto. È stato come scattare un'istantanea di un pianeta in movimento, e ci ha permesso di capire le condizioni estreme a cui questi pianeti sono sottoposti. Settima scoperta, la luce zodiacale. Scienziati e studenti delle scuole superiori cinesi hanno scoperto un fenomeno inquietante su tre esopianeti lontani. Si tratta della cosiddetta luce zodiacale, un bagliore simile a quello che si vede sulla Terra al tramonto. Questo inquietante spettacolo di luci potrebbe nascondere indizi sulla composizione di pianeti potenzialmente abitabili. Immagina di guardare il tramonto da un punto buio della Terra, e che al posto dell'oscurità appaia un triangolo di luce. È la luce zodiacale. È causata dalla luce solare che si riflette sulle particelle di polvere che riempiono il sistema solare, ovvero i resti di asteroidi e di comete. Il team di ricercatori ha analizzato 47 esopianeti potenzialmente abitabili, e ha scoperto che tre di essi, Kepler 69C, Kepler 1229B e Kepler 395C, tutte superterre, presentano segni di questa luce. Ma non è solo un fenomeno inquietante. Questa scoperta potrebbe rivelare informazioni sulla presenza di asteroidi e comete in questi sistemi di esopianeti, che altrimenti potrebbero essere difficili da rilevare. Wow! Ottava scoperta. Un pianeta con nubi di silicato. Ti presento VHS 1256B. Non un sistema di registrazione video, ma un pianeta strano ed esotico, avvolto nel mistero. Un luogo dove le nuvole sono fatte di sabbia e il cielo è sempre rosso. Non si tratta di fantascienza, ma di una scoperta reale fatta dalle brillanti menti della NASA. Sto parlando di un esopianeta nanobruno che sta facendo scalpore nella comunità astronomica. È troppo massiccio per essere un pianeta, quasi 20 volte le dimensioni di Giove, ma non è una stella. È una via di mezzo, un enigma cosmico che sfida ogni definizione. Ciò che davvero sorprende di VHS 1256B, però, è la sua atmosfera. Gli scienziati hanno scoperto che questo strano pianeta è avvolto da spesse nubi di grani di silicato, simili a sabbia. È la prima volta che questo tipo di nubi viene rilevato su un esopianeta, ed è una scoperta che cambierà sicuramente il nostro modo di pensare all'universo e alle possibilità di vita oltre il nostro mondo. Ecco, gente, l'anno 2022 è stato pieno di scoperte incredibili e rivoluzionarie. Ma è solo l'inizio. Scienziati e ricercatori continueranno a esplorare la vasta distesa dello spazio, quindi possiamo solo immaginare quali altre meraviglie ci attendono. Continuiamo a osservare il cielo. Immagina, hai vinto un abbonamento ad una palestra galattica. Potrai allenarti in giro per il sistema solare. Ma la gravità sui vari corpi celesti è sempre diversa. Scopriamo dunque dove sarai più forte e dove dovrai impegnarti un po' di più. La tua astronave si sta avvicinando al pianeta nano Plutone. Fa sempre più freddo e vorrei vedere. Siamo ad oltre 6 miliardi di chilometri dal sole. Meno male che la tua tuta spaziale ha l'isolamento termico, eh? Prima di scendere dall'astronave, i terrestri avranno bisogno di azionare una macchina per la gravità. Su Plutone la gravità è solo un quindicesimo rispetto a quella terrestre. La gravità è infatti proporzionale alla massa. Più un corpo celeste è piccolo, minore sarà la sua forza di gravità. Su Plutone quindi non potrai correre o fare attività simili. Quindi provandoci voleresti via. Ma puoi provare a fare il sollevamento degli elefanti. Perché no? Sulla Terra non si può, ma su Plutone un elefante del peso di 900 chili ne peserebbe appena 60. Ora spostiamoci su Nettuno. La distanza dal sole qui è di 30 volte quella che separa la Terra dalla nostra stella. L'atmosfera è fredda e buia. Il pianeta è così gigantesco che mette soggezione. Non a caso è uno dei giganti gassosi. Anzi, ghiacciati. Forse vuoi fare sport invernali qui? Su Nettuno persiste un inverno a dir poco rigido. La temperatura media su questo immenso pianeta si aggira sui meno 225 gradi centigradi. Ma la gravità è solo del 10% più forte di quella terrestre. Quindi la differenza la noteresti appena. questo pianeta non ha una superficie solida vera e propria, quindi non potrai lasciare l'astronave. C'è un campo da hockey laggiù? Indossa i pattini, prendi il bastone e sfida i tuoi compagni di viaggio. Facciamo anche una breve sosta su Urano? Come Nettuno è un gigante ghiacciato, ma la gravità è del 90% più forte di quella terrestre. Fai qualche flessione sull'astronave, tanto non puoi scendere nemmeno qui. La superficie del pianeta è una poltiglia di acqua, dano e ammoniaca liquida. Anche qui nessuna superficie solida su cui camminare. Se fosse possibile, allora proveresti una sensazione di gran leggerezza. Se sulla Terra pesassi 45 chili, qui ne peseresti 40. Possiamo chiamarla dieta uraniana? Ora ci avviciniamo a Saturno. Ammira i suoi famosi anelli. Che anelli non sono però? Sono frammenti di asteroidi e meteore rimasti in orbita attorno al pianeta. Saturno è talmente grande che la sua gravità cattura in orbita un sacco di altri corpi celesti, inclusa la tua astronave. Qua all'allenamento sarà creativo. Puoi provare persino il paracadutismo qui. In caduta libera nell'atmosfera di Saturno raggiungeresti una velocità di 48 km al secondo. Ricordati di aprire il paracadute. Ripensandoci però, anche qui non c'è alcuna superficie solida. Saturno è a sua volta un gigante gassoso. Piccola curiosità. Saturno ha ostacolato la formazione di un nono pianeta nel sistema solare. I detriti catturati da Saturno e finiti a formare i suoi anelli, infatti, potevano addensarsi e formare un nuovo pianeta. Ma contro la gravità di Saturno non c'è stato niente da fare. Ecco è Europa, una delle lune di Giove. La gravità qui è debolissima. Ti sentiresti senza peso. Puoi fare un po' di arrampicata da queste parti? Questo sport richiede grande forza fisica, ma qui su Europa peseresti solo il 13% rispetto al tuo peso sulla Terra. Puoi arrampicarti senza sforzo. Entrando nell'atmosfera di Giove attorno a te non vedresti altro che strane nuvole. Vedi la grande macchia rossa laggiù a sinistra? Si tratta di una tempesta grande il doppio dell'intera Terra, che infuria da secoli e secoli. Per divertirti da queste parti vuoi fare un po' di salti? Conto io fino a 100, dai! Pronti, via! La gravità su Giove è decisamente forte, fino a 2,5 volte più potente di quella terrestre. Quindi, arrivati a 30, già non ce la faresti più. Fa niente. Oh oh, passeggeri a bordo, allacciate le cinture, stiamo per incontrare una turbolenza. Per raggiungere Marte partendo da Giove attraversiamo la cintura degli asteroidi. Ma niente slalom tra gli asteroidi tipo Guerre Stellari, non preoccuparti. C'è una distanza di 480 mila chilometri tra un asteroide e l'altro. Qui incontriamo Cerere, un altro pianeta nano, l'unico nella cintura degli asteroidi. La gravità qui gioca a tuo favore. Vuoi cimentarti nel lancio dei tronchi? In questo sport si usano tronchi lunghi fino a 6 metri. E pensa, vince chi li lancia più lontano. Qui su Cerere, un tronco da 80 kg peserebbe a malapena 2 kg. In pratica il peso di un melone. Siamo pronti allora alla gara di lancio di tronchi su Cerere. Dai! Eccoci su Marte. Hai sempre desiderato fare una verticale perfetta a testa in giù? Qui è il posto che fa per te allora. La gravità su Marte è di 2,5 volte circa più debole che sulla Terra. Quindi potresti fare ogni sorta di acrobazia senza il minimo problema. Dato il sogno di terraformare Marte, aprire una palestra qui sul pianeta rosso non sarebbe poi così strano, no? Cari passeggeri, ecco che cominciamo la discesa verso Phobos, uno dei satelliti di Marte. La gravità qui è debolissima. Se hai sempre sognato di avere una forza sovrumana, allora qui potrai coronare il tuo sogno. Per cominciare magari vuoi provare un po' di ginnastica artistica? Scaldati facendo una ruota e adesso comincia a fare acrobazia a mezz'aria. Qui su Phobos puoi fare corpo libero, salti mortali, quello che vuoi. Guarda, la Terra sta comparendo all'orizzonte. Vista da qui è proprio bellissima. Ma non ci fermeremo sul nostro pianeta, andremo sul suo gemello, Venere. Quasi identico alla Terra in termini di massa, quindi anche la gravità è quasi identica. I terrestri però non possono avventurarsi sulla superficie di Venere, perché l'atmosfera è colma di ammoniaca. Ma supponiamo di poter fare qualche sport all'aperto qui su Venere. Che ne dici del bubble football ad esempio? Sai quello in cui si indossano bolle giganti e ci si scontra con gli altri giocatori? Sulla Terra è uno spasso, su Venere, la cui gravità è appena più debole della Terra, lo sarebbe ancora di più. Anche se la bolla che indosseresti peserebbe comunque più di 10 kg, tipo un criceto sul nostro pianeta. Senza contare che la bolla ostacola il movimento di gambe e braccia. Ma il divertimento sta proprio lì. Forza, procediamo. Ecco Mercurio, se visitassimo il lato esposto al sole ad accoglierci ci sarebbero almeno 425 gradi centigradi. Se dopo tanta attività fisica vuoi riposarti un po', questo è il posto giusto per fare una sauna. Ti senteresti proprio come nuovo dopo qualche istante su questo pianeta. Siamo più vicini possibile al sole qui, tanto da poterne avvertire la gravità. Il sole è immenso, lo sapevi? La sua massa è 333.000 volte quella terrestre. La gravità quindi è a sua volta immensa. Non riuscireste a sollevare nemmeno una bottiglietta d'acqua se potessi mettere piede sul sole. Troppo caldo dici? Beh, allora bisognerà venirci di sera, dico bene? Haha, scherzo. Tornando verso casa facciamo una piccola sosta sulla luna, il nostro unico satellite naturale. Sulla luna più che camminando ci sposteremmo saltellando. E che salti, alti anche 10 metri senza il minimo sforzo. Parkour allora. Se giochi a basket, qui fare canestro sarebbe difficile. Però potresti fare dei salti e delle schiacciate da fare impallidire i migliori campioni NBA. Forse vuoi provare il baseball? Meglio di no. Ad ogni battuta la palla semplicemente sparirebbe nello spazio. Rieccoci a casa finalmente. Purtroppo qui sulla terra non hai alcun superpotere. Sei riuscito a sollevare quell'elefante e solo grazie alla gravità? L'avrai capito. Bel viaggio però, vero? Che ne pensi?